Ci sarà un nuovo asfalto con un massetto rinforzato per resistere meglio alle sollecitazioni degli autobus che l'attraversano. Via Caduta del Forte a Pescara si rifà il look con un intervento costato 88 mila euro che durerà al massimo dieci giorni. La strada è un'arteria fondamentale per entrare nel centro città arrivando dal Ponte Flaiano e passando davanti al Rampigna e poi al Teatro Massimo per sbucare su Corso Vittorio Emanuele. Una via che doveva essere restituita a una migliore efficienza e ci pone dei problemi per quanto riguarda il cantiere perché c'è la viabilità, una viabilità importante, è una delle vie di accesso alla città e quindi oggi ci riuniamo, vediamo un po' tutti i giornalisti, parliamo con tutti gli addetti ai lavori per organizzare soprattutto un trasporto alternativo dei mezzi pubblici, chiediamo alla popolazione un po' di pazienza, il cantiere durerà circa dieci giorni e speriamo anche di concludere come abbiamo fatto con via Firenze in un tempo più ridotto e contiamo molto sull'aiuto della popolazione. Per quanto riguarda gli autobus sarà sfruttata via Conte di Ruvo e via Chieti? Esatto, esatto. Per quanto riguarda gli autobus abbiamo dei percorsi alternativi su via Conte di Ruvo e su via Chieti per ognuno dei due percorsi e sarà un disagio però veramente la cosa a cui tengo molto è che il cantiere sia espletato in tempi un po' più brevi di quello che abbiamo previsto, speriamo di farcela.